Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Oskar Senkraken e siamo finalmente giunti a questa semifinale, una semifinale storica per il Belgio perché ha battuto ai quarti di finale l'attuale e ancora campione del mondo, la Germania, per ben 2-0, una partita praticamente quasi dominata dal Belgio, la Germania era partita bene però poi al 22esimo Kevin De Bruyne, una rasoiata, incrocia il tiro e batte Manuel Neuer e da quel momento la Germania praticamente va in bambola, bellissime azioni del Belgio che alla 64esimo portano al raddoppio con Yannick Ferreira Carrasco, detto questo ragazzi andiamo avanti e incominciamo subito questo quarto di finale che vedrà ovviamente la Belgio in maglia gialla e nera e la Croazia nella solita maglia a quadrati, bianca e rossa. Visto così dato che c'era stata veramente una grande partita e partita, riconfermiamo il modulo che avevamo visto con la partita contro la Germania nel 4-3-3, scusate, offensivo, quindi ci lascia Lukaku, Carrasco esterno, Kevin De Bruyne trequartista e al posto di Lukaku ritorna Raja Nainggolan che ha giocato una grande partita fuori Meunier e dentro ovviamente Vermeulen ok buona così e via andare quindi ragazzi semifinale fra Belgio e Croazia e dall'altra parte semifinale fra Portogallo e Colombia si gioca alla Snuzziki Stadium, un anno di fondazione 1956 e ha 80.000 spettatori quindi sarà una semifinale con un pubblico veramente un boato incredibile un boato incredibile, gli spalti sono gremiti, pieni un tifo assordante sta per partire questa semifinale del campionato del mondo 2018 qui a Mosca al Luzniki Stadium stanno per entrare le due formazioni ci saranno gli Inni eccoli qua l'inizio nazionale croato ora l'inno nazionale del Belgio Martinez quindi riconferma la formazione del 4-3-3 formazione che ha battuto per ben 2-0 la Germania campione del mondo uscente eccoci qua senza indugi siamo arrivati a questa semifinale vediamo quindi le due formazioni che si sfideranno oggi la Croazia con allenatore Zlatan Dalic Subasic in porta Versalico, Lauren, Kurluka e Strinic i quattro di difesa Kovacic e Badei poi Rakitic, Modric e Perisic i trequartisti e l'unica punta Mario Mandzukic risponde il Belgio con l'allenatore Roberto Martinez Scurtois in porta il poker di difesa Alderweire, Kompany, Vertonghe e Vermeulen il tridente di centrocampo Witzel, De Bruyne e Angolan e il tridente d'attacco Mertens e Carrasco e punta il capitano Eden Hazard si parte dunque da sinistra a destra batte la Croazia partiti questa semifinale del campionato del mondo 2018 in avanti Mandzukic fermato attenzione a Kovacic Perisic fermato ancora due tempi da Nainggolan e Witzel in avanti con Modric Modric fermato anche lui attenzione Palla arriva Corluca Carrasco su di lui Corluca lancia Rakitic Rakitic lasciato solo palla dentro attenzione ed è calcio di rigore fallo di Witzel ai danni di Rakitic un fallo ingenuo solo un avvertimento per lui però c'è il calcio di rigore Rakitic contro Courtois Rakitic contro Courtois ed è il gol di Rakitic 1 a 0 1 a 0 1 al 0 dopo 6 minuti eccolo qui il gol di Rakitic un fallo ingenuo di Witzel e la Croazia è avanti deve partire sotto il belgio Vizzer apretutto Vermeulen cerca e trova non trova Carasco trova Versalico ancora Vermeulen Hazard qualche modo va via Hazard Hazard palla dentro ma è fuori gioco Mertens vediamo il momento del passaggio si attenzione lancio lungo Naigolan Kovacic ancora Rakitic Manzukic ancora Manzukic palla dentro Courtois subito cerca e trova Mertens va via Mertens va in velocità Dries Mertens ancora Mertens salta l'uomo se ne va Mertens palla dentro questa per Hazard Hazard punta due uomini Hazard salta un altro Hazard e la grande parata la risposta la risposta di Subasic tiro fortissimo di sinistro sul primo palo di Eden Hazard risponde Subotic attenzione Le Bruyne crosteso Witzel ed è rimessa dal fondo ancora l'anticipo di Naigolan bella per Hazard Hazard in qualche modo Hazard dentro per Naigolan rasa rasa paura sinistro ancora Subotic e poi arriva Carrasco ed è il pareggio al quidicesimo Yannick Ferrera Carrasco nuovamente due gol in due partite sul ripallo di Subotic Carrasco come un arpione a porta vuota deve solo metterla dentro 1-1 si rifà sotto quindi il Belgio Rakitic al sesto su rigore Carrasco al sedicesimo attenzione Modric Badel Kovacic Modric ancora Rakitic fermato riparte Witzel l'apertura è per Mertens Alderweiler numero cerca e trova ancora Mertens Mertens dentro questa palla forse c'era un po' di ostruzione ai danni di Hazard ma l'arbitro lascia proseguire Rakitic nuovamente nuovamente Rakitic grande voler di Carrasco rivediamo il replay sbaglia di poco a lato la sforbiciata di Carrasco dal fondo Subasic cerca Perisic con calma ancora Carrasco Carrasco qualche modo Nengolano Carrasco dentro per il capitano Hazard Hazard converge il destro fiora il palo alla destra di Subasic gran botta di Hazard trentesimo quindici minuti al termine del primo tempo più recupero sempre fermi sull'1-1 ancora a cercare capitano va via Hazard ancora Hazard si ferma Hazard prova giro Subasic attenzione Perisic Naingolan poi c'è l'anticipo di Badel attenzione a Mandzukic 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 c'è company sono di lui gli ruba tempo e palla poi sbaglia Carrasco suggerimento ancora per company grande Witzel De Bruyne dentro dovrebbe partire sbaglia però Carrasco in qualche modo cerca Hazard ma non lo trova ancora company Mandzukic più alto Rakitic vola sulla faccia Rakitic palla dentro palla dentro palla dentro Le Bruyne ancora Le Bruyne trova Hazard anticipato da Corluca in avanti in avanti adesso con Mandzukic Rakitic apertura per Perisic di prima per Modric fermato ma ancora Modric Modric fermato di nuovo Witzel Le Bruyne sbaglia il suggerimento per Carrasco Rakitic servito da Kovacic fermato da un grande Vertonghen Vermeulen va Vermeulen sulla faccia poi sbaglia il suggerimento tre minuti di recupero in questo primo tempo sempre fermi sull'1-1 tra Belgio e Croazia questa semifinale campionata del mondo in avanti Courtois con calma dice i suoi aspettare il mio lunghissimo e finisce qua quindi il primo tempo fra Croazia e Belgio 1-1 rigore al sesto di Rakitic e pareggio al sedicesimo di Carrasco inizia il secondo tempo non c'è nessun cambio nelle due formazioni adesso da sinistra a destra batte il Belgio si parte con questo secondo tempo valido per la finale del campionato del mondo tra Belgio e Croazia tanto palla dentro a cercare Carrasco spazza via in qualche modo palla fuori per il Belgio Vermeulen va Vermeulen sulla fascia cerca Carrasco ma non lo trova attenzione viene avanti con Modric poi lo ferma company adesso spinge la Croazia palla dentro ancora per Modric la palla è buona Witzel in qualche modo non riesce a spazzare Modric si gira ma il tiro è fuori Alderweather Witzel Alderweather Witzel ancora alla buona dentro per Hazard va via Hazard ne salta un paio poi viene fermato da Strinic Badel Mandzukic fermato De Bruyne va via De Bruyne va sulla fascia ancora Kevin De Bruyne va De Bruyne De Bruyne De Bruyne Carrasco cerca Travasar dentro questa palla ancora per Kevin De Bruyne De Bruyne De Bruyne viene via Harderweather Harderweather ancora per De Bruyne dentro per Nainggolan valla a cercare Carrasco Carrasco traversa incredibile di Carrasco gran botta poi Nainggolan sbaglia gran numero di Carrasco intanto c'è la prima sostituzione per la Croazia senza Badel entra Brozovic alla 61esima grande occasione per Carrasco che colpisce la traversa da Ne qui l'anticipo di Nainggolan Brutta palla poi Mandzukic spara veramente molto alto praticamente a porta vuoto Harderweather cerca e trova Mertens 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 ce la fa andare via Mertens andiamo avanti ancora adesso la Croazia con Perisic cross dentro per Mertens anticipato De Bruyne cerca e trova Carrasco ancora per Carrasco va via Carrasco se ne va Carrasco finta ancora per Carrasco dentro questa palla per Hazard forse è troppo lunga ci arriva Subasic settantesimo risultato sempre fermo sul 1-1 Mertens Mertens Bitzel De Bruyne ancora per Mertens va a verta sulla fassa va via Mertens falla dentro dall'altra parte arriva Carrasco attenzione anticipato in qualche modo in corner ci sarà una sostituzione per il Belgio Hazard Hazard anzi no nessuna sostituzione la lasciamo così aspetta aspetta Kevin Nebruin alla battuta del corno Nebruin lunghissimo Engelan gol 2-0 Belgio al 73esimo Razan Engelan la gira di testa e porta in vantaggio il Belgio in questa semifinale del mondiale Russia 2018 una torsione incredibile non ci arriva Subasic 2-1 per il Belgio alla 74esimo 15 minuti più recupero per la Croazia per sistemare nuovamente le cose attenzione a Mertens ruba palla ma non il tempo palla dentro attenzione a Strinic devono chiudere va via Modric dentro questa palla attenzione ci prova in qualche modo Perisic ma non ci arriva mette giù Carrasco Carrasco va via attenzione a Carrasco numero si allunga la palla troppo ed è rimessa laterale tanto c'è il cambio fuori Perisic è dentro Marco Piaja 78esimo Perisic che non ha brillato molto in questa partita subito primo pallone toccato da Piaja tanto eccolo qui primo pallone anche sbagliato da Piaja Witzel De Bruyne Nainggolan per Witzel che apre per Harder Weller con calma adesso grande questa apertura bellissimo attenzione a Mertens Mertens converge il sinistro nello stomaco di Strinic Modric Modric ancora Mertens lo segue lo infastidisce Piaja Witzel buona l'apertura chiude bene Vermeelen ragazzi Vermeelen ve ne partire il capitano ma sbaglia il suggerimento Vermeelen attenzione lancio lungo è un po' in ritardo ma ci arriva Bertonghen Carrasco De Bruyne Witzel apertura per Mertens ancora dentro Hazard taglia bene questa palla per Carrasco che non ci arriva ed è rimessa laterale per il Belgio quando siamo all'ottantottesimo ultimo cambio per la Croazia Sestrinic è al suo posto entra Domagoi Vida De Bruyne entra per Aldewider cerca di prendere tempo questa volta però la rimessa è per la Croazia un minuto più recupero alla fine di questo match sempre avanti il Belgio per 2 a 1 sono 3 minuti di recupero tanto Mertens buona per De Bruyne dentro per Nainggolan palla buona cercare Carrasco ma sbaglia il suggerimento Vida deve affrettarsi la Croazia se vuole provare a pareggiare manca solo un minuto sbaglia il suggerimento attenzione Piaha cross dentro teso in qualche modo Nainggolan non riesce a spazzare via ancora Croazia questa volta ce la fa però Carrasco è finita è finita è finita qui a Mosca il Belgio batte la Croazia 2 a 1 e va in finale di questa Coppa del Mondo incredibile il Belgio nuovamente in finale di questa Coppa del Mondo rivediamo il gol di Rakitic al sesto su rigore poi arriva il pareggio di Driss Mertens scusatemi di Carrasco e poi eccolo qua il pareggio di Carrasco al sedicesimo e poi arriva la girata di Raja Nainggolan alla 70 alla 70 quattresimo niente ragazzi prima di salutarvi vi ringrazio per avermi visto vi ringrazio per tutti coloro che si vorranno iscrivere alla canale Oscars & Kraken ragazzi il prossimo incontro è la finale e si giocherà alla Luzniki Stadium a Mosca sarà una grande finale fra Belgio e quindi Sua Maestà Eden Hazard e il Portogallo con Sua Maestà Cristiano Ronaldo intanto io vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti ragazzi ci vediamo in finale